Buonasera, buonasera. Allora, dico subito che il tenore del mio intervento, della mia presentazione è di una complessità molto, molto minore di quella che abbiamo appena visto. IOTA Proxy, questo chiaramente è un acronimo unito a una parola proxy che già abbiamo sentito nella precedente presentazione. L'acronimo è IOTA, IOT, che è stato pensato all'interno dell'Accademia di Belle Arti di Urbino, io sono un docente di questa accademia e quindi anche per questi motivi il tenore della presentazione è un po' più basso rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso, anche perché è uno studio dei studenti del primo anno di Accademia. nella materia, negli insegnamenti di sistemi interattivi e interaction design. Io vengo da, in effetti, una preparazione tecnico-scientifica e quindi mi trovo un po' in difficoltà, adesso non voglio proprio fare lunga, mi trovo in difficoltà con questi studenti, allora cerco sempre di trovare una liaison tra quello che è la tecnica, la programmazione in questo caso e l'arte. Ecco che quindi viene fuori quella A finale che in qualche modo contraddistingue questo acronimo. Perché proxy però effettivamente? Perché noi abbiamo negli ultimi tempi pensato di utilizzare, appunto, in questi sviluppi artistici degli aspetti elettronici che mi piacciono molto in quanto open source, in quanto amante del Linux, eccetera, eccetera. Di conseguenza abbiamo utilizzato Raspberry. Raspberry che è, effettivamente, è, diciamo, attraverso la GPIO, è possibile pilotare sensori, motori e tutto il resto. Quindi la peculiarità, ecco, che abbiamo in qualche modo pensato è quella di dire, beh, effettivamente è plausibile che questi Raspberry collegati a sensori, collegati a vari dispositivi, possano scaricare i loro dati e i loro aspetti di dato, appunto, in una pagina web. Di questo ovviamente, di questo ovviamente, la letteratura è piena, ce ne sono tanti di esempi, però ecco che nel nostro caso, volevamo un po', come dire, porre su piani diversi l'aspetto tecnico del Raspberry con lo sviluppo web e tutte le informazioni che possono essere visualizzate nella pagina, nella pagina HTML. Ecco che, quindi, nasce l'ipotesi di sviluppare il proxy che fa da, appunto, da collante tra questi due mondi. Anche questo, ovviamente, è un po' l'acqua calda, no? Nel senso che, anche in questo caso, ce n'è piena, internet soprattutto, è pieno di esempi in questo tipo. Ma ci siamo dilettati, appunto, in uno strumento nostro, perché è effettivamente un software, come ho sentito prima dire, custom, completamente custom, sviluppato anche dal punto di vista della sicurezza, è inattendibile completamente. Quindi è da prendere proprio, come un piccolo gioco. Quali sono stati i principali linguaggi di programmazione? Beh, comunque, è un classico, il Python, utilizzato sia per il modulo client che per il modulo proxy, e la parte web sviluppata, ovviamente, in tutto quello che è lo sviluppo web, cioè HTML, JavaScript e CSS. Quindi, ecco che, vi ripeto, cercate di vedere questo aspetto come un aspetto base, perché effettivamente gli studenti hanno dei livelli bassi di conoscenza e quindi abbiamo cercato di semplificare il tutto. Senza nulla a togliere a loro che sono stati bravissimi. Allora, ecco che il client IoT è, nel nostro caso, è un Raspberry, un Raspberry configurato con, appunto, il software client e, nella migliore delle ipotesi, collegato a un circuito con alcune possibilità. Io ho portato qui, ho portato un primo esempio che è collegato con i classici LED, tre LED, e proveremo questa cosa in diretta, se ce la facciamo, ad accendere i LED. Il proxy IOTA, che è il software proxy, che ruota, come dire, ruota i messaggi che provengono dall'uno e dall'altro, è bidirezionale, in questo caso, e il modulo proxy, in questo sviluppato in Python, come detto, è configurato, è installato in un server, mettiamolo, un server generico in internet, così come, ovviamente, anche il website. E per comodità, lo dico sin da subito, il website e il proxy sono installati sullo stesso server web, ma, ovviamente, questo potrebbe essere distinto. Ecco un po', io l'ho chiamato networking, come funziona effettivamente, per quello che dicono, la sicurezza in questo caso è completamente disattesa, perché il client IOT è connesso tramite, al proxy, tramite un socket, un socket Python normalissimo, non è neanche criptato, non ho seguito quella strada, e il website, ovviamente, è in connessione con il proxy, in questo caso, sì, siamo riusciti a utilizzare un canale sicuro, perché è un WSS, cioè un WebSocket Secure. Quindi, almeno lì siamo arrivati. il proxy, come già detto, ha la possibilità di ruotare in entrambi i versi, quindi, tutti gli eventi, io li chiamo eventi, tutti i messaggi che provengono dal client arriveranno al website, e viceversa. Allora, velocemente parlo un po' di quello che sono state gli aspetti di architettura software da sviluppare. Ora, effettivamente, volo su questi aspetti, perché mi conoscete molto meglio di me, e quindi sarò molto breve. Il website prevede connessioni WebSocket, come già detto, sicure, eventi dai verso il proxy, e quindi la gestione, c'è un piccolo componente, un piccolo modulo che gestisce l'arrivo e l'eventuale spedizione di questi eventi. Io, come ripeto, li chiamo eventi, ma in effetti sono piccoli messaggi, poi ci torniamo su questo. È un'altra di quelle peculiarità da criticare, perché è da criticare perché è fatta male, però è una delle peculiarità di questo software. Architettura dei singoli moduli, ancora, va bene, il proxy implementa, da un lato, il server verso il client, dall'altro, il WebSocket, quindi hardware server, che praticamente gestiscono le code di messaggi. Quindi, anche da questo punto di vista, secondo me, è molto didattico questo software, perché spiega quelle che sono le code FIFO, tipicamente utilizzate anche nei sistemi operativi e via scorrendo, e in più anche c'è un aspetto di concorrenza su queste code, perché ovviamente i processi sono multipli e quindi si vanno a sovrapporre su queste code. Ecco che siamo al client, il client è una connessione, ancora gestisce la connessione client, ha i thread anche lui, e oltretutto gestisce la GPIO, che immagino che conosciate molto bene. Quindi, per una fase di esecuzione la metto per chiarezza, perché non è di grande utilità, però per chiarezza descrivo anche un attimo qual è la sessione di lancio di questi possibili utilizzi. E quindi si lancia il modulo proxy, si esegue, meglio dire, il modulo proxy, che prevede, se qualcuno ha piacere, faccio vedere un attimo il batch che lancia questo proxy, ma è semplicissimo, è semplicissimo perché ha il nome del file, e la porta websocket e porta socket, quindi conosce entrambe le porte. Così anche subito dopo si lancerà il client, con le stesse modalità, perché sono entrambi Python, e poi si aprirà la pagina web, che anch'essa andrà a collegarsi col proxy. Eventi interattivi, quindi il 4 è un po' cosa succede in questo frangente, che vengono scambiati questi eventi tra questi tre oggetti. Come detto, come anticipato, pongo un attimo solo l'attenzione sull'aspetto evento, l'unico codice che vi farò vedere, perché mi vergogno, ma è comunque una classe dell'evento dove riporto praticamente tutte le varie possibili, quelle che ho ipotizzato, che abbiamo ipotizzato con gli studenti, valori che possono essere scambiati, posizione, accelerazione, velocità, temperatura, trasparenza, un valore di trasparenza, colore, molto spesso ci giochiamo con i colori, e come questa classe poi, una volta istanziata, può essere trasformata in testo, passando per un formato JSON. Quindi ecco che da JSON a oggetto, da oggetto a JSON, semplicemente. Chiaramente, ecco lì, la sicurezza proprio viene meno del tutto, perché il testo è in chiaro, quindi potrebbe andare con un TCP dump, andiamo a vedere quello che scorre. Adesso qui ci ho messo anche un po' di scherzo intorno, perché arrivarci da subito sarebbe una gran noia. Perché vi dico questo? Perché effettivamente stiamo scoprendo l'acqua calda con questo software, perché ce ne sono a bizzeffe in internet, però ritrovarlo, riprovarlo e risvilupparlo, è un modo per bibliotizzare il tutto, insomma. È un aforismo che ho trovato. Il primo esempio, ne faccio solo uno, è l'esempio classico dei LED. Perché pongo l'attenzione su questo esempio? Perché tutti quelli che ho trovato creavano un server web all'interno del nostro Raspberry, il Raspberry doveva essere in una rete ben precisa, tutti dovevano collegare a quel Raspberry e potevano accendere il LED. È questo che abbiamo voluto in qualche modo superare, nel senso che adesso io ho la possibilità di collegarmi, ovviamente da qui sì che devo essere sulla rete del Raspberry, collego al Raspberry e faccio il passaggio di collegamento tra il nostro proxy, il Python del proxy e il client proxy e la pagina web. Se funziona potete provare anche voi. Adesso comunque vediamo un attimo i pezzettini, ci ho qualche minuto ancora velocemente, quindi ecco che ero rimasto collegato. Allora sono collegato sul Raspberry, mi collego sul server, un attimo solo di pazienza. Grazie a tutti. e parte il server proxy. Come detto, ho evitato di farvi vedere il batch ma è semplicissimo come detto. Porto, provo a far partire il client, il Raspberry, ho cambiato scheda, ho cambiato scheda qui, siamo sul Teseo che è un server a Urbino, questo sta a Urbino. lancio il client con le stesse modalità e qui fa, mi sa che non lo vedete tutti, ma sta facendo un test delle luci, finché adesso posso aprire la pagina del sito. Come detto il sito è sullo stesso server web Teseo, ma lo potremo installare dove vogliamo. Quindi apriamo la pagina e ecco la coincidenza, cioè viene fuori l'immaginetta nel canvas, ma si accende anche il led, così con tutti gli altri. Facciamo un esempio rosso. e anche, visto che ci sono, vi tedio all'ultimo secondo con il caruse, che forse, eccola, che vengono tutti, non sono stato di molta fantasia, si accendono tutti e punto è basta. Come concludere? Con un altro esempio, ma non ve lo faccio vedere, questo sarebbe se volete provare, c'è il QR code per collegarsi alla pagina web e provare voi stessi a accendere e spegnere i led. Un altro esempio, questo lo faccio vedere perché sono contento di questo sviluppo dei miei studenti, gli studenti che hanno seguito i miei studenti, cioè hanno pensato, mi hanno stupito perché invece di buttarsi, scusate il termine, di affrontare un aspetto artistico, hanno affrontato un aspetto tecnico perché volevano creare un sistema di sicurezza, un sistema di sicurezza e c'erano quasi riusciti, quindi è stata una gran stanza conquista, ci sto lavorando io adesso, un pochino le sto sistemando e effettivamente funziona, insomma si attiva l'allarme, si toglie l'allarme, se l'allarme è attivo fa la fotografia dell'intruso e c'è la galleria di immagini e tutto. Io, non ho questo, saltiamo, io avrei concluso, vi ringrazio e se ci sono delle domande sono qua. Grazie. Qualche studente ha usato questo sistema per fare delle installazioni artistiche? Era il mio obiettivo, c'è stato qualcuno che effettivamente è riuscito, anzi una buona parte diciamo, con una forte forte spinta perché si erano proprio seduti, però un ragazzo mi aveva stupito perché aveva creato dei video che rispondevano, si acceleravano o deceleravano a seconda della vicinanza a questo Raspberry, oppure la classica gallery che impazzisce sempre avvicinandosi o allontanandosi. Altre ragazze lo stesso erano state simpaticissime perché avevano addirittura creato un gioco, non avevano creato loro, l'avevano trovato chiaramente, però Tetris che a seconda ancora della vicinanza di un oggetto sceglievano il pezzo, quindi non era una scelta randomica di Tetris, ma era una scelta dovuta alla distanza. Quindi c'è stato qualche esperimento, io speravo qualcosa di più colorato ma così insomma. No no, ha funzionato, da quel lato ha funzionato, anzi mi hanno anche un po' odiato perché poi questa era effettivamente la prova che dovevano sostenere, la prova pratica, io lo chiamavo così, la prova pratica che loro dovevano sostenere, dovevano installare tutto il sistema per accendere i led, chiaramente con dei moduli, con dei package già dati, però dovevano personalizzarli, eccetera, eccetera, mi hanno odiato. Comunque va bene, grazie.